Franchito? Papito? Cos'è sta storia che mi voglio fare il video per FSTV Italia? Ne sai qualcosa? Ne sai qualcosa Franceschito? No Papito. Franchito cosa facciamo adesso? Non lo so Papito. Ci dobbiamo inventare qualcosa. Hai proprio ragione Papito. Fammi pensare tanto mi scherzo. Franchito? Si Papito? Tu puoi fare qualcosa di bello per il nostro amico? Pensi che pensi che? Potremmo fare un gioco? O cantare? Buona idea Papito. Cosa sei cantare? Se possiamo suonare? Se possiamo suonare in passato? Io farei una canzone per i nostri amici. E allora? Che musica farta? Che ci vuole, che ci prende tutti quanti? Andiamo lato? The musica Fxton? Andiamo lato? Andiamo lato? Franchesso? Andiamo lato? Primero andiamo lato? Amici e il porto? Ed는데? Beh? mi piace di più con il do dammi il do do e allora e allora i dos amilos, signores, signores partranno con il dos di francito hola francito, te puoi? prontos? e va, e one, e two e a tutti i fondi una canzone d'amore francito, fai un po' schifo però non mi piace a me sta canzoncita francito, ripartiamo con la, va da la? la 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 canzone d'amore per me si ca mi viene male e non è proprio una vera canzone possiamo col mariachi il mariachi è il nostro specialista mariachito mariachito sei pronto col mariachito? vai pronto a ragazzo er er fai un po' schifo è stagato E' il flauto, lo devi suonare, e' il francito, e' il flautinito, o' l'euro, c'era, c'era, E' molto morto, scusate per l'attenzione, scusate per Franchito e per me, il corazone. Franchito, la canzone non fa per noi, proviamo con il teatro, e vamos, per i nostri amici! Franchito? Sì, papito, dimmi. Eres pronto tu per lo teatro? Vamos, papino! Allora, partimos, e cambiamo lo scenario, cambia lo scenario! Cambia lo scenario, ha detto. Regia, lo scenario è sempre uguale. E' peccato quello del teatro. Ciao! Io eres l'astronautas! E vengo giù dal pianeta! Si poteva rimanere, shh, andava nel suono. Sapessi che traffico, nella Via Lattea. E poi, quanto tempo, per Parchegiar. Ma lo shuttle mi è cascato, in mezzo al mare. Hola, amico! Chi eres tu? Ma, amicito! Io sono un pittor famoso! Non vede la tela che sta dietro di noi? Mmmmm! Io disegno cose ferme, cose che si muovano, cose che scappano. Come? Mi' ecco, comodo, padre! Però ho teni un stile antico. Molto antico! In bianco e in negro. sono molto bravo però tengo poca pacienza non le finisco mai mi dice sono come il grande Pablo Mezcaso